Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Ebbene sì, Bill Gates si è incontrato anche con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non solo dunque con Giorgia Meloni con la quale si è intrattenuto per più di un'ora dissertando di intelligenza artificiale et similia, ma anche con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sulla pagina Twitter di Cinguettatore, detto anche X, trovate nella pagina del Quirinale l'immagine che ritrae Bill Gates insieme a Sergio Mattarella, viene presentata quasi con orgoglio questa immagine, questo epico incontro fra i due e noi poniamo una domanda che non ci stufiamo di porre. A che titolo Bill Gates è stato accolto dal governo italiano, giacché Bill Gates non ci risulta essere un ministro, un capo dello Stato, un uomo internazionale della politica, è soltanto, diciamolo a Pertis Verbis, un multimilionario apolide che mira al proprio profitto e che, more solito, viene presentato dai giornali più venduti come un filantropo, come un uomo che agisce per il bene dell'umanità, quasi come se si desse un'immediata identità fra il bene dell'umanità e il suo interesse privato di capitalista. Ma noi sappiamo molto bene ormai che in questa misera epoca, la dürftige Zeit, di cui diceva Hölder in Il Tempo della Miseria, i grandi capitalisti passano per filantropi e in realtà si incontrano con i capi dei governi, da che hanno un tale potere, grazie ai processi di accumulazione del capitale, di cui già diceva Marx, da influenzare pesantemente le traiettorie dei governi, da influenzare le loro decisioni, da incidere sulle scelte degli Stati, dato che questi capitalisti ormai sono anche al di sopra degli Stati, hanno più potere, più ricchezze dei singoli Stati nazionali.